a me sia la finale junior femmine Lucia Menegaldo, Martina Rombaldoni Vittoria Urbanetto, Sofia Coralambler Anna Marcotti, Emis Colastra Alice Groppo, Giorgia De Pieri ultimo tempo 27.93 Siamo in vasca con gli junior settore maschile batteria numero 2 che si completa con Cosirnik 24.14 presentiamo la terza Gustavo Zanon 1, Daniele Tonon 2 e dovuti